Buongiorno dottore Lombardo, vorrei che lei brevemente spiegasse alla corte quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, perché ha fatto questa scelta e soprattutto qual era il suo inquadramento nell'andrangheta reggina. Sì, iniziato a collaborare nel 2010 dopo l'arresto delle tangenti delle ditte dell'empresa delle ferrovie che si riceveva da molti anni. Sono nipote di Decano, sposato con la figlia di Vittoria Decano, con Giovanna Polimè, attualmente sta con me. Quindi è un nipote diretto, lei era un nipote diretto dei Decano. Sono stato battezzato nell'86, ho partecipato a parecchi omicidi, a parecchi omicidi eccellenti durante la guerra di mafia, fra Decano, De Stefano, Condello, i Merti, i Sarraino ed altre cosche contro di noi. Quindi lei faceva parte di un gruppo di fuoco? Gruppo di fuoco, sì. Che poi mi sono apparentato con i Decano, insomma, quindi facevo di tutto, sia partecipavo a azioni criminali, estorsioni e via discorrente, altre riunioni di indrangheta, insomma, con Giovanni Decano, Pasquale Decano, Mimmo Decano, defunto. Con i De Stefano, sono parecchi omicidi. Ascolti, quindi lei inizia a far parte della famiglia Decano, della cosca Decano, prima di diventare nipote acquisito dei Decano, giusto? Sì, sì. Ero con i Molinetti, con Alfonso e Gino Molinetti, c'avevamo una piccola cosca fra noi, sempre appoggiata da Pasquale Decano. Quindi lei faceva parte del gruppo Molinetti? Gruppo Molinetti, sì. Alfonso e Gino Molinetti. Senta, quando era entrato a far parte dell'Andrangheta? Nell'86, l'86-87, appena prima di fidanzarmi con mia moglie, con Alfonso e Gino Molinetti. Quindi la guerra di mafia era ancora in corso quando lei è entrata nell'Andrangheta? Sì, sì. Praticamente sono stati fermi sei mesi dopo la morte di Paolo De Stefano. Dopo la morte di Paolo De Stefano, dopo sei mesi, abbiamo iniziato a sparare. Ed è stato formalmente battezzato? Sì. Da chi? Da Micolibri, Pasquale Libri, Totolibri c'era all'epoca. Poi c'era, mi sembra Zindato all'epoca. Insomma eravamo un bel paio di persone alle sbarre superiori dove i libri c'avevano un cantiere. Lei è stato battezzato a Reggio Calabria nella zona di sbarre superiori? Sbarre superiori, sì, che io già nei 180 giorni ho detto a lei. Mi interessa capire meglio qual è stato il suo ruolo durante la seconda guerra di mafia? Il ruolo killer, insomma. Ho partecipato alla guada a Nenni Merti, ho partecipato all'uccisione di Paolo Contello in via Mercatello, dove è stato ucciso Paolo De Stefano e tanti altri, insomma, oggi. E partecipava a queste azioni di fuoco come, diciamo, uomo legato ai Molinetti, Tegano? Sì, sempre per la guerra, per la guerra di mafia, insomma, Tegano e De Stefano. Senta, lei ha detto prima di aver conosciuto Domenico Tegano, vero? Come no, Mimmo Tegano, siamo fatto parecchie, la danza lo spostavo, insomma, lui tutto. Anche a Giovanni Tegano, anche a Pascolo Tegano. Senta, si ricorda quando è morto Mimmo Tegano? È morto nel 91, mi sembra. Appena è morto lui, si è stata subito la pace, c'è stato un incontro a zona di Sant'Antonio lì ad Archi, di cui c'era Pasquale Tegano, l'adletante, Mimmo Tegano e Giovanni Tegano, eravamo, insomma, tutta la famiglia, i miei cognati, di cui c'è stato Pasquale Condello, insomma, si sono incontrati. Ed è finita la guerra. Sì, poi c'è stato l'incontro a Sinopoli, no? Io ho portato all'epoca, insieme a De Angelis, a Antonio Nirta, a Sinopoli, si sono incontrati dove c'è stata la pace, insomma, c'è l'amico Alvaro, insomma. Quindi lei ha partecipato tanto a una riunione a Reggio Calabria, che è la riunione, diciamo, che conclude la guerra. Mi ascolti, ascolti la domanda. Sì. Ed è stato lei a portare a Sinopoli, all'incontro con Mico Alvaro, Antonio Nirta, è così? Sì, di cui c'era una riunione. Sì. Chi le ha dato l'incarico di portare Antonio Nirta a Sinopoli? Pasquale. Pasquale Tegano. Pasquale Tegano. Quindi Pasquale Tegano la utilizzava anche per questo tipo di attività? Sì, di tutto, insomma, può stare alla Tegano, andare a trovare alla Tegano, ma fino al 2010 mi sono incontrato con Pasquale Tegano quando era alla Tegano, prima del suo arresto, voglio dire, specifichiamo. Sì, la mia domanda risale però al 91, quindi Pasquale Tegano le dà l'incarico di prendere Antonio Nirta e di portarlo a Sinopoli. Perché sceglie proprio lei? Sì, perché all'epoca era anche incensurato, dottore, poi i nipote, no? Le cose dovevano stare sempre, insomma, strette, no? Lei nel 91 era già fidanzato con la sua futura moglie? Come no, certo, sì. Sono fidanzato nell'86. 80? 86-87 sono già fidanzato. Bene. Quindi non solo faceva parte della cosca Tegano, ma aveva già questo legame, è così? Certo, sì. Allora, torniamo al periodo in cui muore Mico Tegano. E in particolare mi interessa capire quando muore Mico Tegano, Mico Tegano che ruolo ha nell'Andrangheta Regina? Mico Tegano era nominato come primo la rossa, è stato vent'anni alla Tegano, però lui, insomma, è il perno principale, si può dire Giovanni pure, che è il fratello più grande, però il Giovanni è stato sempre, la maggior parte della Tegano, Mico, Mimmo, ha avuto un paio d'anni, insomma, di libertà. Eh, e quindi come me lo colloca nella gerarchia dell'Andrangheta Regina? C'era Mimmo Tegano, però sempre col supporto, con gli imbasciati che prima volta si portavano a Giovanni Tegano. Ho capito. Quindi Mimmo Tegano che ruolo aveva nell'Andrangheta Regina? Vorrei che lei fosse chiaro. Era un numero uno, come era all'epoca. Il numero uno. Pasquale, Condello, Mico Libri, insomma, erano questi qui al regione. Questi qui, quindi i grandi capi erano questi? Sì. Sì. Lei ha detto di aver, diciamo, avuto rapporti molto stretti con Mico Tegano, tanto di averlo tenuto anche in latitanza. Come? No, certo, andavo a trovarlo spessissimo. E dove lo teneva in latitanza? Ha fatto latitanza da Pino Rivichi, da Carmelo Barbaro, è stato da Danilo Frascati, poi è stato in tanti posti, è stato anche da mia suocera, lì al CEP. Quindi lei si è occupato dall'avitanza di Mico Tegano in più, diciamo, in più posti qui della città di Reggio Calabria? Sì, anche di Giovanni Tegano. Anche di Giovanni. E anche qui le chiedo come mai era lei incaricato di svolgere questo compito? Eh, dottore, nipote, no? Nipote di Tegano, insomma, una persona affadata, no? Federissimo, insomma. Io salivo a Milano, salivo a Torino, mi incontravo a Nopla di San Luca. Per gli stessi motivi, quindi, che ci ha spiegato prima. Senta, lei ha preso mai parte a incontri che si sono svolti a Casa Tegano? Incontri di Indrangheta, intendo. Summit di Indrangheta. Sì, qualche volta ci sono un po' capitato, sì. È capitato. Lei ha conosciuto Salvatore Anacondia? Sì, come no, sì. E quando l'ha conosciuto? Sono stato anche a Trani. Sono stato anche a Trani. Anche a Trani. Quindi stiamo parlando di Salvatore Anacondia di Trani. Mi dice qualcosa di più su questa persona? Che ruolo aveva? Ma era un grosso personaggio a Trani. Come andava, insomma, alla Puglia. C'era una stretta amicizia. Si era aperta una stretta amicizia con il Tecano. E all'epoca, insieme a lui, Pasquale Tecano e Mimmo Tecano, gli dedono una strada per lavorare la cocaina. A lui e a Mimmo Paviglianiti. Dove? In che territori? Milano. La maggior parte tutta a Milano. Milano, Torino. Milano. Senta, lei ha detto di aver incontrato Anacondia a Trani. Sì, siamo andati a trovarla. Insieme a Angelo Benestare, mio cugino, il nipote Sette Grigliano, e Franco Gruto. E Franco Gruto. Il padre di Michele Gruto. Mi dice Michele Gruto, sempre. Perché siete andati a Trani a trovare Anacondia? Ma non mi ricordo all'epoca cosa per droga, sempre. Era una situazione di droga e dovevano salire a Milano. Doveva parlare praticamente tramite Franco Gruto e Angelo Benestare. Insomma, una trattativa, una partita di cocaina che dovevano lavorare lì a Milano. Quindi sempre per fatti connessi alle vostre attività criminali? Sì, sempre sì. Mi spieghi meglio perché ha collegato Anacondia a Mico Paviglianiti? Perché Mimmo Decano e Pasquale Decano all'epoca glielo presentarono a loro perché Mimmo Paviglianiti avevano a Cermenate, a Milano. Sì. C'era a Santos, insomma, ero una grossa famiglia che lavoravano moltissimo. E quindi siccome noi c'avevamo a Pasquale Marando a Torino, che lui aveva grossi quantità di cocaina a disposizione. Sì. Quindi mia zia è sempre un business, dietro che loro conoscevano bene ormai la zona, insomma, erano ambientati da anni, i paviglianiti, santo paviglianiti, io sono stato lì da loro. Quindi stiamo parlando, mi faccia capire meglio, stiamo parlando quindi di famiglie, Annacondia, Paviglianiti, ha detto Marando, collegate ai Tegano, che gestivano il traffico di stupefacenti in Lombardia, nel nord Italia, questo lei sta dicendo? Sì, e anche armi, dottore, più volte sono salito dai paviglianiti. Come mai si era creato questo rapporto così forte con i Tegano? E perché mi ricordo, forse, mi sembra, ma è così, però, Mimmo Paviglianiti è stato arrestato un periodo, non mi ricordo se è stato arrestato con Pasquale de Gano, non mi ricordo un motivo comunque, che c'era stata questa, 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 questa amicizia, è entrata anche con un salvador di Nacondia, c'è stato, non mi ricordo che cosa, non ricordo. Ho capito. Senta, e Annacondia, lei a Reggio Calabria l'ha visto mai? A Reggio Comeno, certo, sì. Dove lo vedeva? A Reggio Comeno, veniva spessissimo lì da noi, però non dormiva da noi, ha dormito, mi sembra anche un atto siciliano che facevano dormire al Miramare, senza documenti, no? Quindi dormivano all'hotel Miramare? Sì. Che vuol dire senza documenti? Senza documenti, perché erano pregiudicati, no? Super pregiudicati, perché non avevano i documenti, no? Quindi non venivano registrati? Non venivano registrati, giusto. E come mai non venivano registrati? Come mai il proprietario del Miramare si prestava a non registrarli? E perché il proprietario era un... Montesano era un intimo amico nostro. E quindi vi faceva questa cortesia? Sì. Ma dico la faceva a lei o la faceva ai suoi zii Tegano? A mia zii, a mia zii Tegano, no? Quindi quando lei dice che Montesano era un amico vostro, intende amico di Tegano? Amico di Tegano, certo. Ma io ho dovuto da fare pure con Montesano quello che è morto, che c'era l'ora. Se no, l'ho portato una volta a Cosenza che doveva aprire un grosso centro di cucina per gli ospedali. Insomma, all'epoca conobbi i Vitelli, Franco Vitelli, e conobbi pure, che era collaboratore, a Pino, a Franco Pino. Infatti noi tramite lui, Franco Pino, sì. Quindi su Cosenza Montesano doveva operare e si è rivolto a voi, che lo avete messo in contatto con l'Andranghe da Cosentina? Sì, ci siamo andati noi, direttamente. Noi, Angelo Benestare, Franco, l'assicuratore, non mi ricordo come si chiamava. Michele... no, Michele Franco. Comunque, attualmente non ricordo. Dopo che c'era questo, c'era un parente che c'era un negozio grosso di scarpe lì a Cosenza Centro e tramite lui, insomma, ci incontravamo perché lui si spostava poco, Franco Pino, lì. C'era un negozio di fiori lì a Cosenza. Senta Moio, torniamo un attimo agli incontri che si svolgevano a Casa Tegano. Le chiedo, lei ricorda di un incontro che si è svolto a Casa Tegano, che poi è stato interrotto dall'intervento delle forze di polizia? Allora, mi ricordo un particolare, che io praticamente mi sembra che ero con Nicolazzo, noi praticamente siamo arrivati, siamo arrivati lì a suonare il campanello e poi dietro sono arrivato insomma un sacco di... Moio, mi scusi, visto che mi pare che lei ricordi un particolare, quindi vorrei che lei costruisse la frase dicendo dove siete arrivati, qual era la casa, chi erano i soggetti presenti e poi ci racconta quello che è successo, ha capito? Ho capito. Allora, a Casa Tegano, lì ad Archie, praticamente siamo arrivati io e Nicolazzo con la macchina una mattina, una mattina, erano le 10 e mezza, le 11 mi sembra che era, o che di mattina era. Mentre ci siamo parcheggiati, siccome da noi era pieno di telecamere, c'è un portone blindato grosso che funziona con un pistone, io ho suonato e dopo poco mi hanno aperto. Il tempo che lui il cancello apriva, il portone apriva piano, sono arrivati qualche 6-7 ore, non so se erano l'Ozziotto a Fanazzatia, non so cosa erano, documenti, documenti. Dice lei che cosa fa qui. Quindi lei e Nicolazzo eravate arrivati a Casa Tegano, stavate entrando, quando sono arrivati dei poliziotti? Poliziotti a Fanazzatia, non so, non mi ricordo cos'erano, comunque appena sono arrivati, dice documenti subito, dice che fate qui. Nicolazzo gli ha detto, siccome Nicolazzo ha giocato, si è curlato moltissimo a dire queste cose, ogni volta gli diceva che giocava con la squadra dell'Archi di calcistica, di cui il presidente era Peppe Deca. Quindi gli ha detto subito in questo modo. Comunque fatta stare che questi sono entrati, che alla porta si è entrata. E poi mi hanno fatto un pochettino di casino, perché mi hanno detto che l'hai fatto entrare. Ma io non è che l'ho fatto entrare io, perché la porta si apriva lì, il portone è brandato, c'è un pistone grosso, piano piano, piano piano, si è aperto e si sono entrati dentro. Quindi Moio, lei e Nicolazzo siete arrivati a Casa Tegano e stavate entrando. Approfittando del portone aperto, i poliziotti vi hanno controllato e sono entrati dentro la casa. Sì, ma noi ci hanno ignorato poco, perché pure i documenti gli abbiamo dato. All'interno della casa era in corso una riunione e se era in corso una riunione chi era presente a questa riunione? Allora mi sembra che all'epoca c'era Pasquale Decano. Pasquale Decano viveva lì? O c'era, mi sembra che c'era l'amico Pavilionite pure, Salvatore Ragondia e altre persone che attualmente... Mi sembra anche Carmelo Barbaro, comunque c'era un po' di gente. Senta lei, il 18 maggio del 2019, sentito su questa specifica riunione, dice di aver visto con certezza Angelo Benestare, Pasquale Tegano, Salvatore Annacondia, Peppe Tegano, Franco De Marzo, ovvero lo zio di Salvatore Gioia. Sì, quello che ha detto prima era di Cosenza, ci portavano a Cosenza, raccontarci con Franco Pino. Quindi era in corso questa riunione, lei mi sa dire se oltre ai soggetti che le ho appena indicato alla riunione partecipavano anche altri soggetti che si sono allontanati? Sì, all'epoca è successo praticamente che loro hanno fatto in tempo perché se ne sono accorti dalle telecamere qualcuno è scappato perché noi ci avevamo sul portone del lato cucina a casa di Tegano c'è una porticina che tu praticamente esci, esci fuori dalla casa, che esce a casa praticamente di Ferriolo Emilio, il nostro affiliato, no? Chi le ha detto che erano presenti altre persone che erano riuscite a scappare e quindi a sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine? Ma loro no, Pasquale, Angelo Bavestare, ma noi non neanche ero improporato, dice come va bene, non accorgo perché io ti ho detto voi, ma siccome quando si gira con la macchina per parcheggiare, che io la mettevo sempre vicino al portone, c'era diventato un muretto, un parapetto che tu non vedi le macchine che salgono, no? Non si vedono le macchine che salgono, invece loro l'hanno visto dalle telecamere, no? Ho capito. Lei quindi non è in grado di dirci a quale forza di polizia appartenessero gli operatori che sono intervenuti quel giorno a casa Tegano? Lei ha detto forse polizia, guardia di finanza, non lo sa dire? Dottore, non ricordo, però non è la prima volta che salivo, insomma, polizia, carabinieri. Ma lei conosceva qualcuno di quelli che intervennero quel giorno? No, no, perché c'era gente grande pure, c'era quei due persone. Ma dicono, non erano in divisa? No, tutti i borghesi erano, c'erano delle valigette, c'erano valigette. Senta, visto che era in corso un summit di indrangheta, sostanzialmente, come dice lei, qualcuno di voi è stato arrestato? No, no, nessuno, no. Lei è stato chiamato a rispondere mai in sede giudiziaria di quell'incontro lì a casa Tegano? No, 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 completamente no. I Tegano le hanno per caso detto se erano riusciti o meno a sistemare la cosa e a evitare che nessuno venisse denunciato? No, no. No. Quindi di questo con i Tegano non parlò? No, sono stato un po', sono intanto riproverato per quel discorso perché non ce ne siamo accorti che loro erano dietro. E fortunatamente, insomma, hanno rapportato la cosa. Nel verbale che le ho richiamato prima, quindi 18 maggio 2019, conferma il fatto che Pasquale Tegano vi ha molto rimproverato, perché sostanzialmente le avevate fatti entrare voi, no? Sì. Ma aggiunge in questo verbale quest'ulteriore passaggio. Lei dice, ricordo che Pasquale Tegano disse che comunque c'era andata bene, dimostrando soddisfazione per gli esiti favorevoli del controllo. Sì, confermo, confermo dottore. Questi esiti favorevoli di un controllo, voglio dire che riguarda una riunione di indrangheta, come ce li spieghiamo? Perché, siccome non si sono portati a nessuno, che di solito può capitare, per controllo li portano in caserma, è successo in quel modo, non ci ho fatto, sapevo il discorso che sono scappati, insomma, qualcuno è scappato, insomma, c'era. Ma io non ho domandato, insomma, ho soltanto preso questo rimproverato anche da Angelo Benestare, due, non ve ne siete accorti, insomma, di molto peso, all'epoca. Quindi vi era andata bene, ma Tegano non ha esplicitato nient'altro per spiegarle perché, diciamo, il controllo era andato bene? No, ma io ho capito che sicuramente il fatto che sono scappati in Grecia, che quelli che ci sono stati sono scappati, non ci ho pensato ad altro, non ho pensato ad altro. Quindi che cosa intendeva? Che erano stati controllati solo i reggini e quindi il controllo era andato bene per questo e non erano stati identificati gli altri, questo lei intende? Sì, per gli altri che sono scappati, infatti, infatti, mi ricordo che quando ho suonato loro ci hanno messo un po' di tempo. Senta, mi faccia capire un particolare. Mi pare iniziare a capire il portone. Quindi questo glielo racconta Pasquale Tegano che altri, diciamo, presenti alla riunione erano scappati. Le disse mai chi fossero? Sì, sì. No, no, non domandai mai, no. 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 Ma è capitato qualche volta, è capitato spesso qualche latitante, insomma, tipo Giovanni, Pasquale, prima volta dietro che avevamo la comodità della campagna, di dietro, che tu potevi uscire, c'era la casa di Firriolo, no? D'Emilio. Prima volta si scendeva lì con la macchina e poi dalla parte di dietro. Ma in quell'occasione non le disse chi erano i soggetti che si erano allontanati? No, no. No. E lei mi conferma che a quella riunione era presente Salvatore Anacondie. Sì, mi ricordo che si diceva Salvatore Anacondie. Senta, gli appartenenti alle forze dell'ordine arrivarono proprio a contatto con i soggetti che partecipavano alla riunione, quindi entrarono dentro la stanza? Sì, sono entrati, come no, sono entrati. Io sono stato all'entrata, no? Loro sono entrati subito nella stanza, cose, tutti sono usciti fuori, insomma. Io sono entrato praticamente all'entrata, no? Dove c'è il corrido e c'era la stanzetta, perché lì c'era la stanzetta che praticamente c'erano dei divani e c'erano delle telecamere. Riusciamo a collocare nel tempo questa riunione rispetto alla morte di Mico Tegano? Perché lei di Mico Tegano non ha parlato, ha detto che era presente Pasquale Tegano. Sì, sì, mi sembra che era nel 91, è stato che fosse il 91. Sì, ma Mico Tegano era morto o era ancora vivo? Era morto Mimo Tegano, sì, era morto Mimo Tegano. Era morto Mimo Tegano, che mi pare che muoia nel luglio del 91, mi corregga se sbaglio. Sì, sì, nel 91, è stata una data perfetta, io la ricordo. Senta, che lei a conoscenza ci sono stati altri incontri di questi soggetti a Casa Tegano? Sì, sempre. A Salvatore Anacondia veniva spesso qualche siciliano, pure. E lei ricorda altri incontri a cui è presente Salvatore Anacondia interrotti dalle forze dell'ordine? Non ricordo, dottore. Qualche volta è capitato che io ero nel caminetto, però non ricordo se c'era lui. Comunque lui c'era spesso. Senta, voglio, mi dica ancora una cosa. Qualcuno le disse mai di incontri svolti a casa e l'avvocato Giorgio De Stefano? Non ricordo, dottore. Non ricordo. Qualche volta mi sembra, non ricordo se qualche volta, accompagnato a Pasquale, a Pasquale De Cano mi sembra. Non mi ricordo. Lei ha accompagnato Pasquale De Cano a casa di Giorgio De Stefano. Sì, Giorgio De Stefano. Vi ha dietro la stazione, c'è un appartamento lì dietro la stazione, la stazione centrale lì a Reggio, piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, dalla parte di dietro. Mi ricordo che ho accompagnato comunque un personaggio, perché io non sono salito. Non sono salito solo. Lei è in grado di dirmi qualcosa di più sul Giorgio De Stefano di cui sta parlando? Il Giorgio De Stefano ci ha convenzionato a livello economico della guerra di mafia, a livello economico dei soldi, i soldi almeno di tanto. Di quale Giorgio De Stefano stiamo parlando, Moio? L'avvocato Giorgio De Stefano, il cugino di Paolo De Stefano. Lei ha mai visto l'avvocato Giorgio De Stefano partecipare a incontri di indrangheta a casa De Cano? Dottore, lui a casa De Cano l'ho visto parecchie volte, insomma c'è stato, no, però capitava pure, prima volta quando c'erano queste riunioni, io andavo a fare altro, mi andavano a gestire altre situazioni, prima volta non eri lì presente, la maggior parte la facevano fra loro, altri stavano sempre fuori, quindi si andava a fare una cosa, a fare altro. E si ricorda chi era presente a questi incontri a cui partecipava Giorgio De Stefano, lì a casa De Cano? Eh, ma la maggior parte di volte c'era Carmelo Barbaro, c'era Pasquale De Cano, quando c'era la buonana di Mimmo De Cano, poi altri, c'era qualche cosa ogni volta qualcuno c'era. Quindi ricorda questi nomi come soggetti che partecipavano agli incontri a cui rappresenta l'Avvocato De Stefano? Sì, sì. Senta, a me interessa anche un particolare, o meglio approfondire un particolare che lei ha introdotto, perché a un certo punto stamattina lei dice che i Te Cano avevano rapporti anche con i siciliani e che c'erano dei siciliani che andavano a casa Te Cano. No, sì. Sì, mi dice qualcosa di più? Che ho conosciuto, però. E allora, sì, di più, c'era un'amicizia particolare, più o meno volte erano cassate, cannone, queste qui facevano sempre regaline cose, lui, poi... Io non ho capito niente, Moio, 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 lei... Sì. In questo momento non ho capito nulla, quindi le ho chiesto di questi rapporti con i siciliani, quindi se lei mi racconta quello che sa, se ha conosciuto qualcuno... Allora, io... Loro ero i De Cano, Pasquale De Cano e Mimmo De Cano, c'era una stretta amicizia con Nitto Santapaolo, di Catania, no? Sì, sì. E c'era una famiglia molto... Forse vanno anche stretti di parentela, non mi ricordo come si chiamava, ma l'abbiamo parlato di questo qui, non mi ricordo attualmente come si chiamava. Vabbè, in questo momento non si ricorda il nome. Poi c'era un'ordo... Quindi c'era una famiglia molto legata ai Santa Paola. Il Coglione. Eh. Sì. E allora? Appartenenti a questa famiglia, lei li ha mai visti a Reggio Calabria? Ha mai svolto qualche attività con loro? Eh, una volta... No, attività no, però una volta sono venuti a trovarli. Sono venuti, sono saliti lì in palazzo. Non mi ricordo come si chiamano i cognomi. È una cosa... No, attività no. Ora ci arriviamo, Moio. Non mi ricordo come si chiamano. Ci arriviamo. Quindi queste persone hanno soggiornato qui a Reggio Calabria, sono state a casa Tegano a fare che cosa? A trovare, a trovarli. A trovare a Pasquale Tegano. A trovare a Pasquale Tegano, a Mimmo Tegano. Quindi, se lei parla di Mimmo Tegano, a trovare Mimmo Tegano, vuol dire che Mimmo Tegano era ancora vivo? Sì, ma io mi ricordo che l'amicizia già era a più ori. Già c'era l'amicizia, perché mandavano sempre a Vincenzo Panuccio, il nostro affiliato, a Catania, a trovare... non mi ricordo attualmente come si chiama, dico il cognome, ma non mi erano a Pasquale. Quante persone erano, di quante persone stiamo parlando che venivano a trovare Tegano lì ad Archie? Questi di Catania, i catanesi? Sì. Allora, a Catania, ogni volta veniva uno e due, se portavano sempre due giovanotti, insomma, sempre in tre venivano. Anche un altro che è venuto, mi ricordo come se concetto Maugeri, concetto Maugeri, di Serra Lusa. Maugeri. Veniva sempre. Maugeri. Sì. Quindi questo è il residuo. Che ha dormito, è stato anche un... Come? È stato un paio di giorni lì, da noi, a Reggio. A Reggio. E dove soggiornava? Sempre lì all'hotel Miramare. Sempre al Miramare. Quindi tutti quelli che incontravano i Tegano stavano al Miramare. Ah, sì. Sì. Dico, come mai lei è entrato in contatto con questo Maugeri, con questo siciliano? È perché non andavo nei Tegano a prenderli durante il giorno, no? Quindi lei svolgeva le funzioni di accompagnatore? Accompagnatore, sì. Quindi lo andava a prendere in albergo, lo portava lì a casa dei Tegano, questo le intende? Sì, solo all'Uvero. I due giovanotti rimanevano lì in Via Maria. Ho capito. Quindi lei prelevava solo questo Maugeri? Sì. Lei è in grado di dirmi questo Maugeri? Io, Alberto Rito, qualche volta anche Alberto Rito. Qualche volta anche Alberto Rito. Senta, è in grado di descrivermi questa persona, di dirmi quanti anni aveva all'epoca? All'epoca c'aveva un 50 anni, un'età mia, insomma, un 55 anni all'epoca, ma anche me, sì, un 50-50 Natale. Quanto tempo duravano questi incontri a casa Tegano con il Maugeri? Ma Maugeri di solito quando saliva, poi stava tutta la giornata lì. Ah, stava in... E poi pranzava. Pranzava lì. Pranzava anche lì. Quindi stava per molte ore. Senta, ma questo Maugeri mi pare di aver capito, anche se lei, diciamo, non lo ha detto ancora con chiarezza, che fosse un uomo appartenente alla mafia siciliana. Sì, era un personaggio. Che vuol dire un personaggio nel suo linguaggio? Che vuol dire un personaggio nel suo linguaggio? C'è da... A livello indranghetista comunque era un boss, qualcosa di grosso, perché i miei zii lo rispettavano moltissimo. Quindi per personaggio, quando lei utilizza il termine personaggio, noi lo dobbiamo interpretare come soggetto di grande preso criminale? Sì, stavo parlando, sì, all'idea di indrangheta. Insomma, era un grosso, uno grosso, ma non era... Ma non ho capito, il Maugeri era un uomo di indrangheta che operava in Sicilia o era, diciamo, un uomo della mafia siciliana che veniva in Calabria? No, della mafia siciliana. Della mafia siciliana, no, no, non era mafia siciliana. Quindi lei lo inquadra così, perché mi pare che lo abbia collegato ai Santa Paola? È corretto? Non ho capito. Mi pare che lei lo abbia collegato a Nitto Santa Paola, ho capito male. Sì, c'era un'amicizia, c'era un'amicizia anche con i Santa Paola. Perché i Tegano avevano questo rapporto così stretto con Santa Paola? Ma non ricordo, perché io ricordo verso l'88, 89, 90 andava spesso, spessissimo e Pannuccio, insomma, ci andava lì a Catania a trovare, non mi riusciva, andavano lui, perché lui sapeva, insomma, dove. Chi dei Tegano le aveva raccontato di questi loro rapporti così stretti con Santa Paola? Ah, sempre, Giovanni Tegano, Pasquale Tegano, sempre, anche i miei cugini, insomma, sapevamo che c'era un'amicizia, no? Senta, in relazione a questo Maugeri, nel verbale del 18 maggio 2019, dice che lo avete ospitato per 3-4 giorni all'Oasi, non al Miramare. No, allora, scusi, dottore, lui all'Oasi andava durante il giorno con i due giovanotti che veniva sempre a pranzo, quando non saliva lì sopra, specifico, perché lì non si, a l'Oasi si dorme, lui andava durante il giorno, durante il giorno stavano lì, pranzato lì, tutto pagato, e, c'è, risponde, i periti di caro, Quando lei parla dell'Oasi, quando lei parla dell'Oasi e dice che questo soggetto stava tutto il giorno all'Oasi, se non sbaglio, l'Oasi era uno stabilimento balneare? Balneare, sì, non era stato durante il giorno lì, quindi stiamo parlando di un periodo estivo, periodo estivo, sì, sì, l'unica volta che venne, non ho capito, ha fatto, l'unica volta che venne questo Maugeri a Reggio Calabria fu in quel periodo estivo o ci furono anche altri incontri? No, ci furono anche altri incontri, altre volte, per uno, altre, altre volte, in estate o no? Sì, mi sembra una volta in inverno, mi sembra, per la vera, e poi una volta in estate. E in estate. Senti, in questo incontro che è avvenuto in inverno, era presente anche Mico Tegano? Eh, no, no, Mico Tegano era morto, non c'era, no, ahi, no, no, non c'era, mi sembra che non c'era, in Mico Tegano, non ricordo dottorio, però è vero, Pasquale Tegano c'era, come sempre a Pasquale Tegano c'era. Il 18 maggio del 2019, lei rispondendo a questa domanda, dice una cosa diversa, dice, sono certo che il primo incontro con il Maugeri si è svolto in periodo non estivo, tanto che ricordo il pranzo a casa dei Tegano, Mico Tegano era vivo e presente. E allora, sì, confermo, confermo, aspetta un attimo, io sto guardando un pochettino, perché l'ultima volta che è venuto Maugeri, è venuto dopo la morte di Mico Tegano, prima è venuto prima, prima, una volta, scusi, ma è lì, vedate, io prima volta, è passato, è passato qualche giorno dall'epoca, quindi, prima è venuto, è venuto, quindi con Mico Tegano vivo in inverno e poi lei ricorda che è venuto dopo la morte? Sì, dopo la morte è venuto e c'era Pasquale fuori, no? È venuto proprio per i funerali? No, no, il funerali non è venuto, no? No, è venuto quindi dopo la morte di Mico Tegano e si ricorda in quell'occasione quanto tempo si è fermato a Reggio Calabria? E mi sembra sempre tre o quattro giorni, sempre, sempre così facevo, anche le altre volte. Tre o quattro giorni. Senta, quando le hanno parlato di questo Maugeri che lei definisce uomo di grande peso criminale, che cosa le hanno detto in particolare? Se le hanno detto qualcosa? Ah, che era un boss mi hanno detto a lei che era un boss che hanno detto che era un boss Cioè, l'hanno proprio definito un boss? Sì, E boss nel vostro gergo che cosa vuole dire? È la potenza che comandano che fanno, ci hanno aggancio e amicizie come i decano, no? Quindi un uomo importante davvero. Si ricorda Sì. Si ricorda questo siciliano da quale territorio provenisse? Cioè, la sua provenienza qual era? Ma mi sembra Siracusa, Ragusa, una cosa del genere. Siracusa, Ragusa. Ho capito. Senta, sui rapporti con Santa Paola, lei ha conoscenza di soggetti inviati da Reggio Calabria a Catania, dai Santa Paola e viceversa? da Catania a Reggio Calabria da Catania a Reggio Calabria e da Reggio Calabria a Catania? da Catania a Reggio Calabria no, non ricordo no. Comunque non ricordo attualmente il cognome come si chiamano questi che mandavano ogni volta la famiglia Santa Paola Mi scusi, lei ha detto che si chiamava Maugeri, c'è qualche altro soggetto che mandavano in Santa Paola? Sì, sì, maugeri, sì, c'era una famiglia a fianco a lui che forse hanno un filo da parentela ma questo mi sembra in delle dichiarazioni che avevo detto il cognome attualmente è un cognome catanese che sono vicini a Santa Paola. È un cognome? Un cognome catanese catanese molto sì, molto sentito anche in televisione insomma è una famiglia molto potente insomma insieme a Santa Paola non mi ricordo attualmente ma forse in qualche dichiarazione l'avevo detto il cognome senta la famiglia Santa Paola questo lo ricavo diciamo dalle numerose sentenze anche passate in giudicato è definita famiglia Santa Paola Ercolano no il cognome Ercolano questo Ercolano no non è Ercolano no quindi stiamo parlando di altri cognomi no senta ancora una cosa Enzo Panuccio lei lo ha conosciuto? ha detto Santa Paola Enzo Panuccio Enzo Panuccio lei lo ha conosciuto? sì Enzo come? se conosciva Santa Paola le sto chiedendo se lei ha conosciuto Enzo Panuccio Enzo Panuccio è un nostro affaleato ed Enzo Panuccio veniva inviato a Catania da Santa Paola sì a fare cosa? ma non lo so all'epoca non ricordo che cosa che gli interessava insomma l'ambasciata e cosa non lo so e in che periodo avveniva questo? ma durante la guerra durante la guerra di mafia durante la guerra durante la guerra c'è stata sempre una precisia senta Moio lei ha frequentato Milano visto che ci parlava di Anacondia di Paviglianiti come no? certo e a Milano ha conosciuto dei siciliani? no a Milano non ho conosciuto siciliani no almeno no non ne ha conosciuti ha sentito parlare dei siciliani che operavano con questi soggetti di cui abbiamo appena parlato lì in Lombardia non ricordo dottore perché lei in questo verbale lei in questo verbale dice di aver sentito parlare di Gimmi Miano e dei Laudani ah questi sì sì ma non ricordo se questi erano siciliani come no certo di questi sono stato anche all'autoparco a Milano sono stato anche all'autoparco a Milano e di Natale di Raimondo lei ha sentito mai parlare? no non ricordo no perché lei il 18 maggio dice il nome di Natale di Raimondo non mi è nuovo ma non so dirle nulla di specifico era gente più una volta che presentavi all'attimo dottore poi passatempo non ricordo uno senta con che frequenza avvenivano questi contatti Tegano Santa Paola ma c'è stato un periodo spesso c'era nata una grossa amicizia c'era una grossa amicizia c'era un grosso rispetto con i quindi quindi c'è stato un periodo che si vedevano spesso questo lei intende? sì ci andava spesso penso qualche volta si è portato qualche due volte anche Alberto Torrido si è portato come compagnia ma questo Maugeri dopo diciamo il viaggio fatto nell'estate del 91 è più tornato a Reggio Calabria? no non ricordo cioè lei non lo lei non lo ha più incontrato? no 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 è sicuro di questo? eh sì è sicuro di non averlo visto più? sì fino al 91 l'ho visto io fino al 90 91 insomma questo periodo 91 quella famiglia dottore mi sono ricordato Laudani Laudani si chiamava la famiglia Laudani eh laudani gliel'ho detto io Jimmy Miano le ho indicato e i Laudani o Laudani Laudani eh sì scusi non avevo sentito Laudani sì senta ancora una cosa e abbiamo finito lei con il Maugeri ha mai parlato di qualcosa visto che lo spostava dall'albergo a casa Tegano? no no non ho parlato mai lui c'aveva i due due ragazzi due due guardaspanti due giovanotti insomma sì sì cioè non avete mai scambiato neanche una parola sì parlavamo che è bella città insomma le zi di cosa c'era un certo rispetto che rispetta moltissimi i parenti insomma tutte queste cose qui insomma facevo più domande insomma era molto indiscreto io pure altrettanto insomma io lo teneva ci teneva molto a questi due ragazzi che portava sempre li voleva sempre tenere nascosti infatti insomma mi sembra che non li ha fatti salire mai non li ha fatti salire mai no li faceva stare mentre tornando a quella a quel summit interrotto dalle forze dell'ordine lei ha avuto mai modo di chiedere poi diciamo informazioni ad altri soggetti oltre che oltre ai tegano di chi fossero i soggetti presenti quel giorno che erano scappati ad esempio con Salvatore Anacondia ne ha parlato con Peppe Tegano ne ha parlato con Franco De Marzo ne ha parlato con Angelo Benestare ne ha parlato ha chiesto dice scusatemi ci è andata bene e siamo d'accordo ma chi c'era che è andato via? Dottorio io non ricordo che ho fatto che dopo andato però mi hanno fatto mi hanno detto insomma che è andata bene perché sono scappati insomma che c'è stata questa fortuna che sono scappati lei non partecipava direttamente a questi summit ma no quel giorno quella mattina non ricordo dove ero no la maggior parte no cioè non l'avevano convocata quel giorno a me interessa capire se quel giorno l'avevano chiamata per dirle guarda che c'è una riunione vieni qui perché devi partecipare e non ricordo se ho portato qualcuno sopra perché di solito andavo a prendere Carmelo Barbora qualcuno insomma a scamissa qualcuno che ho prendevo di solito qualche personaggio lo portavo sopra a me interessa però la riunione specifica lei ha detto prima di essere arrivato insieme a Bruno Nicolazzo Bruno Nicolazzo sì esatto ma che la riunione era già in corso quando lei è arrivato sì sì quindi la mia domanda è precisa ed è questa l'avevano convocata per partecipare a quella riunione o lei è arrivato a casa Tegano per altri motivi io sono arrivato a casa per altri motivi forse sicuramente dovevo accompagnare qualcuno ma l'avevano chiamata loro io non ho capito cioè le due cose non sono conciliabili cioè qualcuno l'aveva contattata per dire vieni a casa Tegano o lei si era presentato lì come faceva tutti i giorni no la maggior parte la sera mi dicevano sempre quello che dovevo fare no se dovevo andare a prendere qualcuno portare qualche ambasciata e poi durante la sera finivo e rientravo no è capitato che sono rientrato no e quindi quel giorno lei era andato per questo motivo sì sì e questo Bruno Nicolazzo perché l'accompagnava no stavo con me Bruno camminavamo insieme insomma una volta venivano con me eravamo sempre insieme siete tornati a commentare il rapporto che c'era stato quel giorno con le forze dell'ordine e quindi il fatto che la segnalazione non fosse stata fatta no mi ricordo questo particolare insomma che è andata bene insomma la cosa è andata bene ma non l'abbiamo commentato perché non si sono portati nessuno infatti al mio sono rimasto un pochettino così perché neppure il documento si era preso né il mio né quello di Nicolazzo Nicolazzo appena gli ho detto in quel modo i tegani hanno rapporti con le forze dell'ordine eh non lo so con questi non lo so perché sono entrati dentro insomma la domanda non è con questi ho chiesto se i tegani avevano rapporti con le forze dell'ordine non con quelle forze dell'ordine che sono intervenute quel giorno in generale la mia domanda ah come noi ci avevamo amici c'erano Polozziotti c'erano che conoscevano i tegani qualche favoretto pure hanno fatto insomma quindi avevano rapporti con le forze dell'ordine e favori di che genere mi scusi ma una volta in un omicidio a Giorgio Benestare gli hanno cambiato i vestiti in un omicidio gli hanno dato i vestiti praticamente per prendere quello di quanto ripara fino no gli hanno sostituito i vestiti insomma questi favori c'erano e che non erano cose da poco mi pare certo che non erano cose da poco e come mai avevano questo rapporto così particolare d'attore a volte ci sono due Polozziotti che abitano vicino a casa mia all'Iarrione Archie gli dobbiamo fare un favore io devo fare assumere il cognato il cognato in una ditta praticamente mi sembra la mia e poi invece è entrato mi sembra la Leonia con la a Leonia con la Multiservizi l'hanno fatto entrare quindi c'erano scambi di favori le dice scambi di favori certo dottore chi dei Tegano teneva i rapporti con le forze dell'ordine Pasquale di più Pasquale Tegano Pasquale Tegano ma anche anche ma anche tramite i Frascati a Enrico Frascati quindi anche i Frascati facevano da intermediari sì hanno pure un po' lo si attenzione a Campanieto quello lo si ha fatto delle dritte delle cose insomma come quando dottore c'è stato l'arresto di il mancato arresto di Giovanni Tegano da siciliano e loro lo sapevano che andavano quel giorno già sapevano loro che lui c'era i blitz cioè avevano informazioni anche quando c'era la ricerca della titania era detto siciliano Paolo siciliano chi è Paolo siciliano è morto ha deceduto il cognato di cosa non mi viene come si chiama comunque dove praticamente dove era fatto la titanza Giovanni Tegano fino al 2009 2009 sì 2010 quindi lei sta dicendo che c'era un'abitazione qui a Reggio Calabria dove Giovanni Tegano era latitante era l'abitazione a casa a casa a casa di siciliano di siciliano e che era stato informato Giovanni Tegano dell'intervento delle forze di polizia e si era allontanato sì ed era stato informato da chi da chi i trascati c'erano i suoi i trascati a Cannavo c'erano i suoi i libri c'erano i suoi i polizia noi c'erano qualcuno qualcuno ce n'erano che ci tenivano informati di certe cose e voi in cambio che cosa facevate di queste informazioni ma favori dottore favori di ogni genere che sono favori tipo se lei ha fatto qualche favore qualcosa la ricorderà come? se lei qualche favore lo ha fatto qualcosa ricorderà sì ho fatto come ho pure i favori gli ho fatto poi ha raccontato il sonato cosa insomma sull'etilizia un cacchio soldo pure quindi questo è il rapporto che avevate con le forze dell'ordine sì c'erano quindi degli appartenenti infedeli alle forze dell'ordine che vi davano informazioni sì sì ma sì pure quando facevano qualche vizio io parecchie volte mi ricordavo fuori casa no c'era qualche associazione qualche cosa insomma non solo io anche gli altri no perché subito dell'ambasciato o dal regio o dai fascati arrivavano l'ambasciato dai libri di qualcuno di gruppo che c'era e lei è sicuro che quel giorno quando interruppero quel summit nessuno di voi venne controllato come no io mi ricordo perfettamente io sono rimasto pure non si sono presi il nuovo nativo anche Nicolazzo no niente era contento che non ci sono scritti il nuovo niente completamente e che sono entrati a fare dentro casa di Tegano a quel punto che sono fatto controllo no controllo così c'è un valiggetto forse valiggetto hanno fatto perquisizioni ma no no almeno non hanno non hanno salito un palazzo sopra sotto perché di solito quando venivano con qualche perquisizione carabiniera così salivano sopra e scendevano apriamo tutto l'appartamento infatti una volta c'è stata e gli hanno trovato un posto sotto la cucina a Giovanni De Cano gli hanno preso c'era l'oro conservato in un posto dove si vuole nascondere l'oro va bene Moio grazie prego parte civile nessuna domanda sì presidente qualche domanda buongiorno signor Moio buongiorno buongiorno sono l'apoca d'Aluisio senta ci può specificare meglio il periodo in cui ha curato la latitanza di Domenico Tegano non mi ricordo se era nel 87 88 non mi ricordo perché è stato in parecchi posti Mimmo Tegano Dico fino a quando è durata la latitanza di Domenico Tegano si ricorda l'arco temporale quantomeno? Lui la maggior parte la maggior parte ha finita ha finita da casa insomma non ha fatto è stato poco in carcere è stato poco non ha fatto più la latitanza che carcere si può dire quando è morto era latitante mi faccia capire quando è morto è morto a casa di Unicolus morto all'epoca c'era io a casa da quel giorno si dico ma era latitante in quel periodo no era libero era libero si era libero senta quindi il vertice lei ha detto prima quantomeno fino al 91 era rappresentato da Condello e da Domenico Tegano è corretto? non ho capito Amico Libri Amico Libri Dico il vertice fino al 91 da chi era rappresentato in seno all'Andrangheta o comunque in quella componente dei Tegano c'era la pascola Tegano Giovanni Tegano che era latitante e poi c'era Mimmo Tegano il vertice erano questi tre o Domenico Tegano? ma l'ho detto era Mimmo Tegano però sempre supporto di Giovanni perché era più anziano e più grande no? il padre mi scusi Condello rientrava in questo vertice? si Pasquale Condello pure quindi mi faccio capire le decisioni più importanti in quel momento da chi venivano prese? in quel momento storico? durante la morte o prima della morte di Giovanni di Mimmo Tegano? prima e dopo prima c'era Pasquale e Mimmo di solito chiedevo sempre un parere non mi incontravo io si incontrava qualche altro mio cugino qualche ambasciata a Giovanni Tegano dopo la morte di Mimmo Tegano è iniziato Pasquale insieme a Giovanni Tegano dico da solo o vi erano anche altri o me dico da solo o vi erano anche altri in quel momento al vertice ma c'era Horazio De Stefano che è stato in carcere che è l'ultimo De Stefano che mio cugino si può dire perché ha sposato la nipote ad esempio una nipote si dico ma vi faccio capire una cosa in quel periodo quindi dopo la morte di Domenico Tegano chi partecipava alle riunioni o comunque chi prendeva le decisioni più importanti Pasquale Tegano Pasquale Tegano sempre con supporto mandato in masciata a Giovanni Tegano ho capito Senta un'altra cosa prima ha parlato di Maugeri concetto Maugeri legato a Santa Paola non ho capito bene una cosa lui è stato a Reggio quante volte cioè si ricorda questo particolare e in che periodo perché prima ha parlato di un periodo estivo poi ha parlato di un periodo invernale può specificare meglio questa circostanza? Ha parlato di entrambi che volte sta? Sì Due volte è stato lì a Reggio Due volte? Una volta nel periodo estivo perché l'ho portato dico come mai ricorda ricordo questo particolare Sì 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 ho capito come mai ricorda di questa presenza a Reggio di Maugeri nel periodo estivo? Eh perché li portavo io li portavo io li accompagnavo io i ragazzi la prima volta li ho fatti sono andato io a presentarli come mai ricorda che era estate come mai ricorda che era estate da quale particolare? Eh perché l'ho portato a mangiare loro mangiavano stavano lì i ragazzi stavano lì ma un giro lo portavo dai miei parenti lì nel palazzo e allora lì li lasciavano lì e quando sono andato a parlare per il fatto di mangiare di stare lì durante il giorno pranzo e cena dove stavano quando stavano lì all'Oasi l'ha detto e da questo abbiamo dedotto che doveva essere un periodo estivo perché si tratta di uno stabilimento balneare perfetto senta lei sa se l'Oasi è aperta anche nel periodo invernale come ristorazione ma c'è stato un periodo ultimamente io sto parlando degli anni perché in quegli anni era aperta durante il periodo invernale mi scusi in quegli anni era aperta durante il periodo invernale l'Oasi come ristorazione chiaramente come stabilimento balneare no? mi intendo no non c'era soltanto le discoteche mi ricordo il periodo invernale la ristorazione mi sembra che non c'era l'Oasi ho capito l'hanno fatto ultimamente da quante che sono presi Scaramossino ma quando c'era Uoso mi sembra che non c'era perché io sono andato e c'era un responsabile va bene non ho altre domande buongiorno sono l'avvocato Strangi senta lei durante l'esame ha fatto riferimento a Franco Pino Cosenza si sa se vi era una conoscenza diretta tra Franco Pino e i Tegano si conoscevano personalmente eh sì c'è certo sì Franco Pino è stato mai a casa Tegano no non l'ho visto mai nessun'altra domanda pubblico ministero sì Moio solo una precisazione e lei ha detto di aver avuto un ruolo diretto nella fase conclusiva della guerra di mafia no sì può essere più preciso sul momento esatto in cui la guerra di mafia finì con quegli incontri che lei ci ha accennato prima dopo la morte di Mimmo Tegano c'è stato dopo un mese un mesetto così un incontro alla zona di San Antonio lì ad Archi di cui c'erava Giovanni Tegano la di Tante Pasquale Tegano Giordano Franco Giordano Giovanni Pellecano mio cugnato Antonio Polemieni Paolo Schimizi Firriole Emilio Angelo Benestare Franco Benestare comunque tutta la famiglia a completo armati tutti eravamo armati di cui da loro c'erano che ho visto io c'era che non l'ho vista erano un pochettino lontanino Bruno Tegano praticamente il cognato di Mimmo Condello Pasquale Condello e le altre persone di cui si sono allontanati insomma quindi lei è testimone oculare dell'incontro di pacificazione chiamiamolo così sì che avviene dopo la morte di Mico Tegano sì mentre l'incontro di Sinopoli l'incontro di Sinopoli sapevo che c'era insomma c'era la stanza mi interessa quando è avvenuto l'incontro di Sinopoli prima o dopo questo di Sant'Antonio è stato dopo o è stato prima a Sinopoli e poi si sono incontrati prima è stato a Sinopoli prima è stato a Sinopoli ma Mico Tegano era morto sì era morto quindi l'incontro di Sinopoli è comunque successivo alla morte di Mico Tegano sì sì va bene grazie prego soltanto alcune domande volevo capire se lei volevo sapere se lei è stato condannato per il reato associativo ha riportato ha riportato condanne e che tipo di condanne ha riportato ce lo può dire io sono stato arrestato per il presposivo nel 2004 sono uscito poi poi ho ricevuto questa qui l'ultima per l'associazione più estorsione e condanne quindi ora c'ho l'appello non c'ho l'ho avuto scopo c'ho l'appello il 17 dicembre c'ho l'appello ma per per quale processo e per quale condanna il processo quota questo è l'ultimo processo quota e a parte il processo quota non ho avuto altro quindi armi cosa ha detto sì per l'esposivo sono stato arrestato con quattro lire in base di definitive armi e estorsione d'associazione sì senta ha avuto lei l'attenuante di quell'articolo 8 della legge 203 91 che i collaboratori di giustizia ne ha beneficiato nell'ambito di quel processo no di questo questo qui quello no di questo qui nel processo quale quota questo sì sì l'articolo 8 certo le hanno riconosciuto l'articolo 8 e anche nell'altro va bene sente lei nell'ambito del processo quota e nell'ambito di altri processi ha reso dichiarazioni nei confronti di persone diciamo che sono state condannate a seguito delle sue dichiarazioni sì un'ultima cosa per quanto riguarda i rapporti tra i tegano e i siciliani lei può riferire solo su rapporti con i Santa Paola o anche con rapporti con altre famiglie siciliane provenienti da altri territori o che ricordano c'eravano Geri e i Cavagruzzo come chiamavano in Germe insomma di Santa Paola Santa Paola e Maugeri e poi ho conosciuto soltanto questo a parte come conoscenza diretta però per quello che lei sappia se c'erano altri rapporti con altre famiglie siciliane no non ricordo Presidente va bene ci sono altre domande va bene grazie possiamo chiudere la ringraziamo possiamo chiudere il collegamento con il sito riservato buongiorno dottore Lombardo buongiorno dottore grazie a tutti grazie a tutti